Più che bello è di valore, di gran valore, anche perché venivamo da due sconfitte e quindi la tensione era palpabile. In un palazzetto strano, basso in una parte e più alto nell'altra, contro una squadra che aveva assolutamente necessità di fare punti, con delle defizioni che avevamo in campo, però abbiamo fatto un bel trazzero importante, condotto alla grande il primo e secondo, ripreso il terzo con grande voglia di ottenere questi punti assolutamente il prima possibile, complimenti a tutta la squadra, sempre i tibetici sono stratosferici, Bisi sempre più il top nel ruolo di opposto in Serie A, stiamo lavorando bene, anche i centrali fanno bene, tutta la squadra sta lavorando bene, godiamoci questi tre punti, pronti alla prossima sfida altrettanto importante contro Cantù.